buongiorno oggi siamo qui perché non avrei mai pensato di fare questo video in così poco tempo ovvero dopo soltanto un mese lo speciale 600 iscritti perché grazie a tiktok che siamo a quasi 10.000 grazie a tiktok ne ho fatti altri 150 su youtube e anche un sacco di altre persone su instagram comunque faccio lo speciale appunto 600 iscritti speciale 600 iscritti che grazie ai soldi di tiktok guadagnati no non è vero sono minorenne non posso guadagnare niente comunque ho venduto le mie biciclette quindi la da bomb se vi ricordate che intanto ormai non la usavo più e la specialized che è quella che usavo prima le ho vendute e mi sono comprato lei speciale 600 iscritti non poteva capitare di meglio ragazzi la nuova specialized uscirà il bike check dove ne parlo nel dettaglio uscirà il bike check appunto questo è solo per informarvi dello speciale 600 iscritti che ormai siamo a 650 quindi tra poco ci sarà anche lo speciale 700 comunque guardate qua che bestia in carbonio non vi dico altro uscirà il bike check voi continuate a seguirmi seguitemi perché perché ne vedrete delle belle ragazzi ne vedrete veramente delle belle e niente ragazzi davvero seguitemi perché questo periodo è veramente tanta roba ne vedrete delle belle ragazzi buona giornata ciao 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 ciao